Musica E' uscita di strada forse per un malore. E' accaduto oggi, sabato 23 dicembre, intorno alle 19 in via Pertusio San Ponso a una 69enne di Valperga a bordo di una Fiat Punto. Era appena salita in macchina dopo essere uscita dall'agraria, quando forse per un malore ha perso il controllo della vettura finendo nel fosso che divide le due carreggiate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e Quarnier, l'ambulanza della Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte e i carabinieri. Dopo le prime cure la donna è stata accompagnata all'ospedale di Brea. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.